Ma perché tre coperti? Ah Donatella! Donatella non viene? Donatella viene, viene! Donatella non è più tua, ti ha lasciato! Umpè sono le 6.35 sta appena iniziamo un'ora e mezza! Tutto in 90 minuti! Oddio Mario guarda che a tutto c'è una spiegazione perché nella vita le persone fanno le cose sempre per un motivo ma tu che ci fai qui? Prendegli la forza almeno cosa ne vado? Ma stai a trozzare? Ma stai a trozzare? Ma stai a trozzare? Mario? Come cade? Ah! Bene le vado! Ma che mi hai fatto il panno? Ma di me la rossolina? No non c'ho fame grazie! No dai mani della rossolina! No per carità non esiste! Ma mani della rossolina! Ma mani della rossolina! E' in camera! In camera! Ma vabbè! C'è un attimo dei contropiedi non capiamo! Amore? Oh tesoro! Sono pronta anch'io! Qui sotto ho il tuo regalo! Grazie a tutti.